Piervito di sabato, l'Italia ha iniziato con una vittoria, 3-0 all'Ucraina, il tuo commento? È stata una partita abbastanza difficile, soprattutto nel secondo set siamo andati in un po' in difficoltà, eravamo sotto di 4-5 punti, però siamo riusciti a riprenderli e a vincere il set ed è stata la cosa più importante. C'era un po' di emozione a esordine a un campionato europeo Under-18? Sicuramente c'era tanta emozione, siamo stati un po' con il freno a mano, però l'importante è che dopo ci siamo sciolti, speriamo che domani partiremo fin dall'inizio. Domani una partita dura contro la Russia? Sì, domani il big match, aspettato da tutti noi, anche se dobbiamo pensare partita per partita. Ce la giocheremo e speriamo bene.